Una donna notevole, si chiama Micaela Piccoli, è primario in chirurgia generale all'ospedale di Baggiovara di Modena, è direttrice della scuola nazionale di laparoscopia, ed è una cosa molto importante quella che vi sto dicendo, questa signora qui è una dei dieci primari donne italiani su 350. Ci farei un pensierino, Sileri, su sta storia io, perché secondo me avere un po' più di donne tra i primari non sarebbe male, le dico la verità. Sì, ora lei mi presenta Micaela, ma se chiede a Micaela da quanti anni ci conosciamo, le saprà dire che è qualche anno che ci conosciamo, da ancora prima la mia attività da viceministro, quindi è una delle, non voglio dire la migliore perché altrimenti poi si offendono le altre, ma è sicuramente un fiore all'occhiello della chirurgia italiana e lei sa quante anche specializzande donne del mio gruppo sono andate a imparare da lei, credo che lo possa confermare in diretta. Allora, questo mi fa un gran piacere, vedo un bel clima fra lei e Micaela, però Micaela è bella arrabbiata, perché nel suo ospedale succede una cosa che non va bene, vero professoressa Piccoli? Non è del mio ospedale questo che voglio, il grido di allarme è un grido di allarme da parte di tutti i chirurghi, e il ministro Sileri lo sa benissimo perché lui è un chirurgo, è un grido di allarme di tutti, tanto è vero che dopo questo articolo i riscontri che abbiamo avuto da chirurghi di tutta Italia è stato molto grande, il problema è che la cosa è diffusa in tutta Italia, nel senso che oggi purtroppo si può parlare, si può ragionare solo per i pazienti Covid, perché non abbiamo altri mezzi per farlo, dobbiamo trovare posti... Le normali operazioni vi si tendono a non fare in questo momento? Ma il programmato è sospeso, che cosa significa programmato? Programmato tranne la chirurgia oncologica e le urgenze, il problema è che nel programmato c'entra dentro tante cose, non solo la chirurgia oncologica, qui si cerca con tutti i mezzi di dare risposta, purtroppo non sempre sufficiente in tutta Italia, per cui ci sono delle discrepanze a seconda degli ospedali e delle sedi, il problema è che nel programmato c'è tutta la chirurgia, il programmato non è la chirurgia non urgente, non è la chirurgia non necessaria, gli interventi chirurgici che quando vengono indicati sono tutti necessari, un aneurisma dell'orta non è un tumore, ma si può rompere, un'ernia lombare non è un tumore, ma provoca immobilità di un paziente, un'ernia inguinale, la più banale delle patologie, è una patologia che può dare invalidità, può non far camminare i pazienti e dà dolore. Scusi